ciao ragazze e allora oggi c'è un altro pacco avon eccolo qua è molto pesante eccolo qua e vi faccio vedere subito che cosa è arrivato allora c'è la fattura come ogni volta l'erata corrige questo è un altro foglio della fattura anteprima da ordinare in campagna 8 il nuovo segnapunti per ritirare i vari premi il nuovo catalogo casa dell'autunno-inverno 2013 offerte esclusive di campagna 10 poi un'anteprima da ordinare in campagna 9 un catalogo di campagna 11 un catalogo di campagna 10 offerte esclusive di campagna 11 mamma mia quante offerte di campagna 9 5 offerte outlet e 5 cataloghi di campagna 9 vedere tutti i cataloghi lo sapete vi lascio il link nel box informazioni qui proprio sotto il video andiamo invece a vedere cosa è arrivato come prodotti e allora come prima cosa c'è questo vestitino della linea body illusion non so se vedete qua il particolare non lo posso aprire perché ovviamente come sapete è sigillato e non è il mio poi sono arrivati un detergente intimo una matita in gel eyeliner della super shock quella che conoscete tutti ve la faccio rivedere per chi non l'avesse mai vista si presenta così e ha questa punta molto scura che sembra più che una matita sembra un eyeliner sono arrivati due bagnoschiuma da un litro ciascuno all'anguria due bagnoschiuma sempre da un litro al giglio bianco un bagnoschiuma da un litro al geranio un altro sempre da un litro alla lavanda e l'ultimo bubble bath sempre da un litro nella fragranza sensitive un primer per occhi nella rumenta light beige non so se metterà a fuoco dunque ve lo faccio vedere come quello che ho anch'io e vi ho fatto vedere tempo fa si presenta in questa cellulina qua c'è il prodotto scritta on ed è così un correttore nella ideal flawless nella colorazione fair quella più chiara questo è sigillato non ve lo posso far vedere un temperamatite sempre sigillato e anche questo non ve lo posso far vedere e poi quest'ultimo che questo l'ho ordinato per me è un kit per sopracciglia ma è una novità questa e l'ho voluta prendere per provarlo nella tonalità soft brown e perchè c'era questa tonalità un pochino più scuretta e poi quella blonde questo è il kit che è composto qua c'è il pennellino il kit è composto da una scera modellante e una polvere fissante per riempire i punti che ci sono nelle sopracciglia comunque per definirle questo è un prodotto che comunque voglio voglio provare e se mi trovo bene vi farò sicuramente un video con l'applicazione e la review io spero che vi abbia fatto piacere rivedere un video Avon come al solito sapete che sono una presentatrice Avon che spedisce in tutta Italia quindi se volete fare un ordine potete tranquillamente visualizzare il catalogo online e vi lascio nell'info box il link per vedere i cataloghi per ora si può ordinare da campagna 8 e 9 e niente ci vediamo ci vediamo ci vediamo al prossimo video ciao ciao